Nome? Marco Giuliano, chef concierge Grand Hotel Parkers. Vincenzo Coletti, consierge del Grand Hotel Parkers. Da quanti anni fai questo mestiere? Nel mondo dell'hotellerie 21 come concierge 12 anni. Proprio questo mestiere sono quattro anni circa. Il tuo concierge preferito? Il mio socio, amico e fratello Vincenzo Coletti. Ne ho conosciuti tantissimi a livello internazionale, mondiale, anche grazie all'associazione, ma tu mi hai chiesto quello preferito. Marco Giuliano. Il tour più richiesto dagli ospiti? Beh, oh beh. La richiesta più strana da parte di un ospite? Ricordo questa richiesta con vero piacere. Qualche anno fa una coppia di clienti americani espresso il desiderio di sposarsi a Napoli. L'unico modo era farlo su di un veliero, quindi organizzavo il matrimonio proprio sulla barca con il comandante a celebrare il matrimonio. Sono di un ospite che voleva far mangiare alla propria compagna una pizza a forma di cuore sul cradere del Vesù. Ce l'ha fatto. Il tuo posto del cuore di Napoli? Non solo perché ci abito, ma per la storia e l'autenticità di grandi quartieri spagnoli. Mi reputo insomma concierge scugnezzo perché sono nativo del quartiere sanità, il quartiere sanità. Capri o costiera amalfitana? Non me ne vogliono i miei amici di Capri, i colleghi, si viene a collare, ma scelgo la costiera amalfitana per i paesaggi e la cultura. A me non me ne vogliono i quei colleghi della costiera amalfitana, ma Capri. La tua pizzeria preferita? L'esperienza del menù degustazione Ciroliva con Cettine 3 San, per la Margherita 50 calorie. Siamo di pizza classica e quindi per esempio la marinara sta rica, ma per l'esperienza Cettine 3 San. Ragù o genovese? Il ragù, quello tradizionale, ad apapia 24. Genovese. Sfogliatella o babà? Una bella sfogliatella, se è calda ancora più buona. Babà, sempre. Cosa significa per te essere concierge Clédor? È l'essenza dell'ospitalità. Noi siamo consiglieri e accogliamo i nostri ospiti come se fossero degli amici e dei familiari. Potrà essere una missione, quindi l'onore di indossare queste chiavi. Voi a casa, chi è il vostro consiglio? Quello che vi risolve i problemi? Vostra mamma. Io non posso essere vostra mamma, ovviamente, ma mi sento familiare dei nostri ospiti. Qual è il modo più veloce per comunicare con voi in hotel? Whatsapp e consigliere già. Semplicissimo, Whatsapp o consigliere già. Grazie. Grazie.